Prima di iniziare volevo salutare il mio grande amico Mustang Interista che lo saluto Vi invito a seguirlo perché è molto simpatico e ti fa Inter Vabbè, ma come si chiama Mustang Interista? Come si chiama? Mustang Milanista? No, saluta me Lo saluto e questa intro è dedicata a lui che come personaggio preferito di Dragon Ball C'ha Mr. Satan, il campione dei campioni Mustang, questa intro è per te Goditela tutta fino alla fine È veramente forte Non riuscirò mai a batterlo e non riuscirò mai a far avere il gioco al Carmine Gidget, Gidget, Gidget Non riuscirei mai a sottrarmi il gioco che è destinato a Carmine Per tutte le volte che mi ha pagato 6 euro al mese invece che 30 euro Gli ho fatto un bel dispetto Non riuscirei mai a portarglielo Perfino anche i tuoi amici Buzz Lightyear, Woody, Spider-Man Li ho uccisi, tutti Fino all'ultimo, pure a Mike Wazowski Eccoli là Sei pronto a essere lanciato, Max? Sì, sono pronto, Mr. Satan Lanciami Va bene Ciao, Politano Max? Gidget So come ti senti A me è incredibilmente forte da quando Me ne è pagato 6 euro al mese invece che 30 Come noi con lo stipendio Ti prego, Gidget Tu Devi Fermarlo Devi riuscire a portare il gioco a Carmine Non preoccuparti per me Che bel discorsetto, grazie per il contributo, Max Ma preferisco continuare a moto mio se non ti dispiace Gidget Gidget Promettimi una cosa Tu Devi difendere A petta mi spetta Il mio giocattolo preferito che un tempo io te consideravamo un figlio Mi piaceva tanto, sai Conto su di te Difendilo Ti ho sempre amata Gidget Mi dispiace ma quelli che tirano le bombe Non mi sono mai piaciuti Specialmente di Lorenzo e Darmian Oh, è un terremoto Ma che cosa sta succedendo? Due ore dopo il terremoto Adesso basta Mi hai davvero fatto arrabbiare Onda Energet Gidget Che Oh no! La bomba di Di Lorenzo! Mustang segnalalo! No! Ce l'ho fatta! L'ho battuto! Max! L'ho battuto! Max! No, Gidget! Era soltanto un'illusione. La kamehameha tra fidanzata e fidanzata ha fatto effetto. E finalmente, guarda cosa ti trovi davanti. Finalmente! Il gioco di Carmine! Perfetto! Ora io lo vado a portare. Ma dovrò darmi da fare. Cari amici, mi sentite? Io, il grande Mr. Satan, ho sconfitto Homer Simpson e ho portato la pace del mondo! Ahahahahah! I meriti vanno a me! Ok, adesso possiamo finire. Ciao! Eccomi qua ragazzi dopo la mitica intro dedicata al mio amico Mustang Interista che gli piace tantissimo Mr. Satan Per chi vuole lo va a seguire e finalmente ragazzi eccoci qua con l'unboxing del gioco che tanto volevo da 55 milioni di anni Dragon Ball Z Budokai HD Collection ragazzi ho risultato un pazzo appena mi è arrivato perché qui l'ho provato prima il gioco è nell'Xbox non so se funzionava perché all'interno aveva dei graffetti però funziona sì! E dai! Prima di andare a vedere il libretto vediamo un po' dietro ecco qua tutto tedesco tutto tedesco ma il gioco è italiano qui in copertina abbiamo Goku della prima serie e Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT include il primo e il terzo Budokai il 2 non so perché non lo tiene non so perché ecco qua le grafiche letteralmente rimaste rizzate io come giochi di Dragon Ball già vi ho fatto vedere il boost limit che vi ho fatto vedere ho fatto anche l'unboxing nel canale poi ho l'Xenoverse 1 ce l'ho anche per la Play 3 ho l'Ultimate Enkaichi Dragon Ball Z Ultimate Enkaichi però è masterizzato e non guarda non ve lo faccio vedere e poi Dragon Ball Xenoverse 2 per la Playstation 4 che ci ho giocato in questi giorni lo sto quasi per finire ecco qua Budokai 1 e Budokai 3 sono masterizzati qui disco vabbè disco è nell'Xbox qui se c'è una cosa che fa cagare registrare il nome e il libretto di gioco che di poche pagine ah qui c'è anche Dragon Ball Kinect che che sarebbe Budokai sarebbe l'Ultimate Enkaichi però col Kinect libretto scadente tedesco via 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 libretto del cazzo ma il gioco veramente anzi i due giochi specialmente il 3 mi piace molto di più se devo essere sincero il primo il primo da piccolo l'ha fatto abbastanza sclerare per quanto era difficile quei tassi la proprio era qualcosa di assurdo ho provato il 3 per i tutorial prima di iniziare col con 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 il gioco sto pensando di portare la guida di Dragon Ball Budokai 3 sapete magari potrei fare delle live dove gioco e e gioco a Budokai 3 vi faccio vedere potrebbe essere un'idea però non lo so dovrò vedere e c'è il 2 allora il 2 non c'è qua non so perché non ce l'abbiano non so perché è assente però vabbè qui tra l'altro leggendo tradotto italiano vabbè ho visto anche la copertina italiana ovviamente una sfida Budokai dopo l'altra qui qui possiamo vedere Junior ha un'aura potentissima e Vegeta il principe di Saiyan ascoltato voi ben sapete io sono un grande amante di Dragon Ball anche se non lo vede più però ai giochi ci gioco volentieri perché mi ricorda tantissimo lì c'è giocare a questo gioco l'ho giocato prima Budokai 3 Budokai 1 magari non lo giocherò mai vabbè no a parte gli scherzi lo giocherò però un po' più avanti voglio giocare prima oltre il pretto non è che è tenuto chissà che però vabbè e l'ho provato l'ho riprovato a distanza di anni l'ultima volta che ci giocai era sulla play 2 e mi ha fatto veramente emozionare veramente cioè poi appena l'ho giocato soltanto a guardare la intro con canzoni molto diverse qui il Budokai 3 è differenza dalla versione originale della playstation 2 e vabbè ha la grafica rimasterizzata è ok ma le canzoni non sono quelle erano molto più belle quelle della playstation 2 quelle non rimasterizzate però vabbè non non importa non fa niente però al massimo ci hanno messo una canzone di Budokai Tenkaichi 3 che mi piace tantissimo quella che fa te 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 qua mi piace veramente un sacco bella che ce l'ho messa e altre canzoni sono orrecchiali ma quelle della playstation 2 quelle origine erano più più godibili molto più orrecchiali però vabbè Budokai 1 non so se sono rimaste quelle però credo di sì vabbè questo era l'unboxing di Dragon Ball Z Budokai HD Collection se prenderò altri giochi di Dragon Ball non lo so non ne ho proprio idea visto che i giochi di Dragon Ball che stanno uscendo non è che tanto mi interessano giusto il Kakarot ma un po' palloso cioè per fare un combattimento devi andare avanti indietro avanti indietro avanti indietro avanti indietro qui vabbè per fare un combattimento c'è una mappa che puoi andare in giro per il mondo è abbastanza carino il Budokai 3 il Budokai 1 vabbè c'è una schermata che ti diceva dove quando vuoi combattere qualche una specie di mini gioco però vabbè e vabbè questo di più per Budokai 3 sinceramente ma vabbè Budokai HD Collection ok vabbè è dentro l'Xbox tra poco ci giocherò a meno che non sono impegnato e vabbè andrò a finire qua la intro più storica più 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 lunga che abbiamo fatto è stata questa saluto ovviamente Mustang Interista vi invito a iscrivervi al suo canale perché è molto simpatico è molto gentile vi lascio il link in descrizione del suo canale e niente l'unboxing può finire qua può finire qua ci vediamo al prossimo video o sarà un unboxing o sarà un video non so post partita o o qualcos'altro anche se c'è qualcosa che avevo comprato ieri però non sono video giochi sono delle felpe della Cisalfta Sport che sarebbe un abbonamento tipo di 60 euro sono dei buoni qua ho comprato una felpa una felpa che adesso faccio vedere giusto per se non c'è niente da mostrare questa ecco questa qua ho preso la Cisalfta Sport per per 45 euro costava tra l'altro vabbè avevo lo sconto vabbè tenevo la carta cioè il buono sconto che me l'ha regalato e ho anche questa questa qua presa 9 euro questa qui della ABC sempre della vabbè preso dalla Cisalfta Sport sempre col buono e mi piace tanto tra l'altro vabbè a parte ieri sono andato a Benevento a prendere queste queste bellissime maglie insomma anche questa bellissima felpa dalla Cisalfta Sport e poi vabbè ieri sono andato anche a Benevento anche per vedere Benevento Brescia allo stadio però come vi dire Benevento Brescia e purtroppo è finita 1-0 era da tanto che non andavo allo stadio e è finita 1-0 cioè ci sono tornato con una sconfitta wow vabbè dai ci sta cioè tutte le volte andavo io il Benevento non perdeva mai e vabbè in serie B in serie A si sono andato a vedere un sacco cioè un bel po' di volte il Napoli una volta l'ultima volta era col Torino 2-2 pensate un po' non è vero non è vero più volte avete il Benevento che Napoli è tanto lontano da qua però vabbè anche se oltre a Napoli Torino mi sa che sono andato via no 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 era l'ultima volta vabbè che ve ne parlo a fare e niente il video finisce qua ho detto tutto e bla 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 cosa ne pensate di questo gioco tra come il Z da Budokai avete mai giocato i Budokai per la Playstation 2 scrivetelo nei commenti e se volete questo gioco vabbè lo trovate su Ebay che però ha veramente un costo questo l'ho pagato 20 euro 20-22 euro un disco due giochi ma forse ci sto però ha un prezzo veramente esagerato per trovare questo qua cioè per trovarlo col prezzo tipo 20 euro è difficile io ho avuto botta di culo per trovarlo cioè questo si trova 30 euro 40 euro vabbè non importa il video finisce qua cosa ne pensate di questo gioco volete che porti qualche lexplay di questo qua scrivete tranquillamente nei commenti e io forse vi accontenterò il video finisce qua ciao ragazzi e ovviamente passate al canale di Mustang interista link sotto in descrizione